Ciao a tutti amici di Gamesurf, oggi siamo a un bellissimo evento di Nintendo in cui abbiamo la possibilità di provare non solo tutti i prodotti Wii U ma anche 3DS perché Nintendo come sappiamo lavora su più fronti. Abbiamo la possibilità di avere con noi Stefano Calcagni, brand manager per Wii U a cui chiederemo diverse cose. Allora, Wii U, macchina uscita l'anno scorso, partita un po' così ma insomma la qualità c'è, si vede e si intuisce anche da questo evento. Allora, salve a tutti, innanzitutto oggi siamo all'evento che porta per la prima volta in Italia tutti i nuovi titoli presentati all'E3 di Los Angeles, quindi grandi anteprime che portano un forte focus, una forte attenzione su Wii U da qui a Natale e come dicevi tu dopo una partenza che in realtà nel primissimo periodo è stata molto buona perché ha superato anche quelli che erano i dati di vendita di Wii. Poi c'è stata qualche difficoltà perché effettivamente, soprattutto dal pubblico di giocatori, si è percepita una carenza di titoli, ci si aspettava un maggior numero di uscite, adesso queste uscite stanno arrivando, da qui a Natale abbiamo oltre 30 titoli tra Nintendo e terze parti e così via, titoli di altissima qualità e quindi il rilancio della console, come è stato anche in passato per il 3DS, sembra che stia avvenendo in maniera molto positiva. Ecco, parlavi di tanti titoli, oggi l'evento organizzato qua a Milano è proprio un banco di prova per far testare, insomma, sia alla stampa che all'utenza, quello che arriverà, sia nel breve periodo perché abbiamo qua Pikmin, abbiamo l'espansione di New Super Mario, ma abbiamo provato anche titoli che arriveranno nel prossimo autunno, inverno, che rapiscono un po' il cuore perché c'è Zelda e poi insomma, brand di forte richiamo come Mario Kart, ci vuoi parlare un po' in generale? Allora, sicuramente abbiamo, questo è l'anno di Luigi, quindi non può mancare un titolo convenioso per Luigi U, che è un'espansione ma è un vero e proprio titolo a sé perché ci sono tutti i livelli completamente ridisegnati e quindi un livello di difficoltà di gameplay molto elevato davvero per hardcore gamer, quindi un titolo veramente molto interessante. Oltre a questo si parte con Pikmin a brevissimo il 26 luglio, un altro titolo classico di Nintendo, con delle forti novità a livello di personaggi, a livello di gameplay che prima nei precedenti titoli non c'erano, per poi arrivare gradualmente a quelli che saranno i titoli dell'autunno, molto importanti, si passa per The Wonderful 101 dei Platinum Games che non ha bisogno di presentazione, un titolo molto innovativo, strategico, adatto ovviamente ai super appassionati, per poi arrivare a dei brand molto famosi come dicevi tu, come appunto New Super Mario 3D World o anche Sonic Lost World fino ad arrivare al 2014 con titoli come Mario Kart 8 e Super Smash Bros. nuovo che insomma continuano una saga davvero molto importante. Abbiamo quindi una serie di titoli davvero importantissimi, tutti i probabili qui a questo evento, alcuni in versione completa, alcuni in versione ancora di anteprima, in quanto alcuni titoli sono ancora in fase di sviluppo, però c'è davvero tanta carne al fuoco da provare. Gli articoli che si leggono anche a livello internazionale è di un grande entusiasmo intorno a Nintendo perché finalmente sono arrivati dei giochi che tutti aspettavano. e titoli che era ovvio che Nintendo stesse sviluppando come Mario 3D World, quindi era un'avventura di Mario in 3D dove per la prima volta sarà possibile giocare in multiplayer fino a 4 giocatori e naturalmente non si può non parlare di Zelda Wind Waker HD che è un remake completamente rivisitato con anche delle novità all'interno del gioco che consente di rivivere quella che è stata un'esperienza di Zelda, una delle più rivoluzionarie, in quanto con la grafica in cel shading e con tutta una serie di caratteristiche che non erano presenti negli altri Zelda, crea come dire un mondo completamente nuovo ad essere alla portata di tutti. Ci hai parlato di tanti titoli, attesi, attesissimi dai fan non solo, ma entriamo un pochino più nel dettaglio. Quale gioco tu aspetti di più? Da un manager, insomma anche tu sarai giocatore, immagino. C'è qualche titolo a cui sei perfezionato o che ritieni possa essere veramente il pezzo da 90 da avere per forza su una Wii U? Allora io sono un giocatore abbastanza tradizionalista, nel senso che sono grande fan di Super Mario, di Luigi, di Zelda, dei classici brand di Nintendo. Li gioco da sempre, da primo NES a 8-bit e sto continuando passo passo tutte le console sia da casa che portatili. Allora i titoli su cui puntare di più sono sicuramente i titoli platform a scorrimento orizzontale perché funzionano sempre molto bene. Anche questo nuovo New Super Luigi U è sicuramente un titolo difficile, adatto ai gamer, ma anche se non lo si vuole finire al 100%, adatto a tutti perché comunque è facilmente approcciabile. I titoli chiaramente di Mario in 3D sono delle chiavi di volta perché hanno una profondità che pochi altri titoli possono vantare nel mondo dei videogiochi e poi Zelda chiaramente rimane un titolo chiave che sicuramente, esatto, scalda il cuore non solo dei Nintendo fan ma anche di giocatori più allargati. Chiaramente non possiamo non parlare di Mario Kart 8 che è il best seller di tutti i tempi, di Nintendo che appassiona sia casual gamer che hardcore gamer fortissimi che si sfidano in tornei online o anche fisici in tutto il mondo e poi grandi nuovi annunci come Bayonetta 2 di cui si è parlato molto, che molti aspettano. Le prime prove che abbiamo fatto ci entusiasmano molto, siamo molto contenti del livello qualitativo che poi sappiamo essere una discriminante fondamentale per poter soddisfare il target dei gamer. Quindi per concludere mi interessa sapere questo, sei d'accordo che il futuro sia per quanto riguarda la parte casual e ovviamente la parte hardcore perché devono convivere in simbiosi queste due parti su cui U trovano terreno fertile grazie alla vostra line up che comunque abbiamo trovato decisamente ben fornita? Allora la forza di Nintendo proprio a questo proposito è il fatto di lavorare bene su due target chiaramente il target casual che è stato conquistato dalla Wii, la Wii ha rivoluzionato il modello di gioco è la prima console che è entrata nei salotti delle case italiane, cioè vicino ai lettori DVD, vicino ai vecchi lettori VHS troviamo la Wii, difficilmente troveremo altre console. Quindi Wii U continua questa strada con titoli importanti come Wii Fit U, il nuovo Wii Fit, o anche Wii Party U che sicuramente è un titolo allargato sia per i casual che per gli hardcore gamers ma dall'altra parte è un secondo target invece con dei giochi molto profondi che sono principalmente first party di Nintendo con le avventure di Mario in 3D, di Zelda o a scorrimento orizzontale come quella di Luigi, oppure i giochi di strategia come Pikmin. Però da poco tempo a questa parte c'è una forte attenzione anche delle terze parti con titoli appunto abbiamo iniziato con Zombie U che è stato un titolo di estrema qualità per continuare adesso con Bayonetta 2, con le esclusive di Sonic, con Sonic Lost World e poi titoli importanti come si pedeva anche Disney Infinity, probabile sempre a questo evento di oggi e molti altri titoli che dovranno essere ancora annunciati. Perfetto, quindi, first party, third party, ci sarà supporto pieno per portare a benefici Wii U che comunque, come dicevamo anche noi, ha del grandissimo potenziale. Noi Stefano ti ringraziamo per il tempo che c'è. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero che vi possiate divertire a questo evento. All'evento ci divertiamo sicuramente, continuate a seguirci perché uno speciale proprio sull'evento ci racconterà di tutti i giochi che abbiamo provato. Ciao a tutti e un saluto da Nintendo.